La preoccupazione che le belle giornate di sole nelle giornate pasquali possano indurre le persone ad uscire e a fare scampagnate schiticchiate all'aperto è fortissima ed il presidente Musumeci prepara nuove ed ulteriori restrizioni. Il governatore detta la linea nei giorni di Pasqua, mascherine, guanti monouso ed igienizzante diventano un obbligo solo per gli operatori dei negozi di genere alimentari anche all'aperto ma si impone che tutti indossino la mascherina ad un altro adeguato accessorio in tutti i luoghi che impediscono di mantenere la distanza di un metro. L'altra novità è la limitazione delle uscite che sono previste esclusivamente per gli acquisti essenziali ed eccezione di farmaci. Sono limitato una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. Previsto inoltre il divieto di consegnare cibo a domicilio durante le domeniche di giorni festivi dunque anche a Pasquetta unica eccezione riguarda le consegne di farmaci e libri. A Palermo ad esempio il sindaco Orlando farà volare a Pasquetta i droni sulla città a caccia di assembramenti. Leoluc Orlando ha annunciato ai consiglieri comunali che l'Enac ha autorizzato la polizia municipale all'utilizzo dei droni per sorvegliare dall'alto il rispetto dei divieti imposti. Sotto controllo saranno soprattutto spazi verdi che comunque saranno chiusi al pubblico e giardini già vietati da settimane. I droni trasmetteranno in tempo reale le immagini alla sala operativa della polizia municipale. Se dovessero segnalare la presenza di gruppi la polizia municipale allerterebbe le forze dell'ordine per un intervento congiunto. Il presidente della regione musumeci rilancia inoltre sulla chiusura dello stretto. Da domani al giorno di Pasquetta il transito via mare dalla Sicilia alla Calabria e viceversa è consentito solo ai pendolari, agli operatori sanitari e agli appartenenti alle forze dell'ordine e delle forze armate. Il tutto avviene anche e principalmente per le vibranti proteste del sindaco di Messina Cateno De Luca in primissima linea sul fronte dell'emergenza.